andiamo a fare a fare a partecipare al ciclo a raduno giro da mare ora bisogna accendere le luci è veramente sta iniziando a diventare buio però bello siamo quasi a chiulano e ora con il buio andiamo nel bosco ci vediamo dopo speriamo di non perderci sto facendo un video ma disi sta tagliando la carne eh ma io non la mangio no che vegetariano voglio mica morire in discesa ah è un video eh? chiamano Ahahahah! Tinnelli!